Supergirl! Il mondo ha bisogno di noi! Ripuliremo questo pianeta dai criminali, dai malvagi e dagli ingiusti! Ok, andiamo! Eeeh Supergirl! Ma vogliamo andarcene in giro con chat così in pieno inverno? Ma scassiamo? Ma dai mamma devo andare a salvare il mondo! A lui però non dici mai niente eh! Oddio! Ciao Georgia! Stai bene? Cosa fai lì dentro? Che bella barchetta! La rimuoi? Cioè ragazzi ok fare il rabadano ma non vi potete ridurre così tutte le volte! Lo senti l'odore del circo? Mmm lo sento non piacevolissimo tra l'altro! Ci sono le noccioline? Mmm sono allergica mi dispiace! C'è lo zucchero filato? Dieta! Ci sono gli hot dogs? Sono vegana! Ma lo sai che hai scientificamente provato? Che i vegani hanno una carenza di vitamine? Ma senti sono vegana da anni e mi sento benissimo ok? Quindi sono veramente stupidaggini! Ma perché vi ostinate a negare che siamo tutti onnivori? Ma onnivori cosa? Cioè secondo te il tuo organismo è in grado di digerire i latticini? E poi pensa ai vitellini, i pulcini, gli agnellini, è crudele ok? Eh non hai argomentazioni eh! Soldato! Vedi quella linea? E' la trincea nemica! Dobbiamo trovare il modo di aggirarla! Ha portato la mappa? Ehm no! Ha portato la bussola? Ehm neanche quella? Volevo portarla ma non l'ho portata alla fine! Vai e te! Ehi Siri! Trova rifugio! Mi dispiace! Là giù! C'è qualcuno! Mi dispiace! Ci sono delle tracce di pneumatici là dietro! Sembrano fresche! Beh si sono le mie ma... Bene bene bene! Sembra che abbiamo trovato il nostro colpevole! Ma no! Sono le tracce di tutti quelli che posteggiano lì! Zitto! Vedo qualcosa! Laggiù! Su quella foglia! Ci sono delle cellule epitetali! Epiteliali! Sta cercando di ostacolare la mia indagine! Ryan! Veramente sono Mirko! Segni di collutazione! Dove? La vittima ha cercato di difendersi! Vedi il nastro Ryan? È spezzato! Ha lottato! Ma non ce l'ha fatta! Ma è nostro! È nostro! È qui! È qui! È proprio qui! Quella cassetta! Quale cassetta? Quella maledetta! Non so di cosa stai parlando! Quella che la scorsa settimana ha ucciso una ragazza! Questa è stata trovata nel suo videoregistratore! Quindi mi stai dicendo che è morta perché ha guardato questa? Doveva essere proprio un brutto film! No 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 no! Tu non capisci! Dopo averla guardata! Ricevi una telefonata! E dopo una settimana! Pam! Sei stecchito! Morto! Brucia la getta! Che vuoi farci? No no no! Sarebbe troppo facile! Adesso andiamo a casa! Io e te! La guardiamo! E svegliamo tutto il mistero! Ma sei scema o cosa? Ma ho guardatela a te! Ma sei!